Diciamo che è ancora molto presto, alle 4 del mattino abbiamo solo 10-11 sezioni su 71, quindi aspetteremo l'alba per avere risultati più certi. In ogni caso qua Carrara sembra in controtendenza il voto del Movimento 5 Stelle rispetto al contesto nazionale, no? Siamo stati troppo concentrati sulla nostra votazione, non abbiamo proprio avuto tempo di guardarci intorno. Ma al momento è soddisfatto? Indubbiamente. In questi 15 giorni come si continua la campagna elettorale, cambia qualcosa? Continueremo a impegnarci come abbiamo fatto finora per il bene della città. Ma teme un'alleanza a questo punto delle due forze di centro-sinistra? Non abbiamo la sfera di cristallo, non leggiamo le carte, quindi non sappiamo assolutamente che cosa succederà in questi giorni.